Musica Direttore peccato perché chiudiamo al del 2 a quest'anno con una sconfitta nel contesto comunque di una buona gara bisogna già guardare la prossima stagione che ha detto poco fa il padrone Pulcinelli ripartirà da Vincenzo Vivarini c'è una base solida? Sicuramente c'è una base solida, la cosa che deve renderci tutti soddisfatti oggi che è il momento ormai dei consuntivi nel senso c'è ancora una giornata ma è l'ultima che abbiamo giocato in casa penso che la cosa che ci debba rendere tutti soddisfatti è il fatto che sappiamo che possiamo operare su una base molto solida questi ragazzi hanno fatto una grossa stagione, hanno saputo reagire alla grande ai momenti difficili questo è un segnale della loro qualità calcistica non solo, anche umana e quindi siamo assolutamente convinti di aver puntato sulle persone giuste è ovvio che tutto è migliorabile, figuriamoci se non siamo migliorabili noi cercheremo di farlo durante l'estate ma con la consapevolezza appunto di partire da una squadra assolutamente solida da un allenatore, da uno staff molto preparati e seri quindi siamo molto soddisfatti di quello che è stato fatto Comeriggio emozionante sia perché è tornato al Del Duca Carlo Mazzone, la tribuna est in suo onore ma anche per due giocatori che lei conosce molto bene, Iva Lanni e Bright Day celebrati per il loro 150 presenze in campionato con la maglia bianconina tra l'altro Bright è andato anche in gol, se lo meritano perché sono due ragazzi che hanno dato tanto fin dall'estate 2014 Sì è così, sono ragazzi della primissima infornata per quel che mi riguarda l'anno addirittura è stato il secondo o terzo giocatore preso allora all'inizio di quell'estate e devo dire si sono meritati tutto quello che hanno ottenuto in questi anni perché anche la loro personale storia, penso all'anno scorso, li ha portati a vivere dei momenti difficili ma esattamente come dicevo prima in generale della squadra hanno dimostrato sempre un grande attaccamento ai colori bianconeri e una grande professionalità quindi è stato bello oggi festeggiarli al termine di questo cammino, di questa stagione in casa in un contesto fantastico perché la nuova tribuna ha regalato una cornice veramente molto molto bella grazie ai tifosi della curva che si sono impossessati subito con il giusto entusiasmo di questo settore quindi insomma tutto bello Bright rimarrà qui ad Ascoli, Tesoro ce l'ha detto che aspettavate una risposta dal suo procuratore Che deve arrivare, quindi aspettiamo la risposta Per gli altri Troiano, Laverone e Valentini non ci sono problemi? Non ci sono problemi e in ogni caso è chiaro che il momento delle valutazioni arriverà da qui a brevissimo mi sembra giusto che vangano fatte prima tra di noi coinvolgendo chiaramente il mister e tutto ma sono tutti i ragazzi che hanno dimostrato di meritare questa maglia, è una conferma L'ultima Aciaia che è un giocatore di proprietà sa dare del tuo al pallone Aciaia è un giocatore di una qualità estrema, lo aveva già dimostrato due anni fa a Novara giocando un campionato veramente importante anche se spesso subentrando d'altronde allora era come un 2000 di oggi ma un giocatore veramente qualitativo che credo che possa essere anche lui un tassello molto importante quest'anno ovviamente è stato sacrificato dal fatto di essere arrivato a stagione in corsa e di giocare in un ruolo dove c'è un certo Ninkovic davanti e poi dopo anche l'arrivo di Ciciretti ovviamente ha reso assolutamente competitivo quel reparto però lui ha qualità che lo porteranno se saprà mantenere l'umiltà che ha avuto per esempio nell'approccio in queste settimane stando al suo posto senza fiatare, dando sempre il massimo in allenamento un ragazzo che farà una carriera importante grazie grazie grazie